Come sono i capelli? Forti, molto forti. Questi capelli solleverebbero un'auto che schiaccia un bambino se necessario. Sicuro? Questo voglio sentire. L'istruzione è il nostro futuro. Il pilastro della nazione sono i coltivatori. I banchieri. Le donne. I reduci. Il più solido pilastro della nostra nazione sono i giostrai filippini dei Luna Park. Salamat. Cam Radio otterrà il suo quinto mandato al congresso semplicemente registrando la sua candidatura. È uno dei vantaggi del non avere un avversario. Mettiamo questa firmetta. Non so mai se tirare o spingere. Ciao! E quello chi è? È sempre stato il mio sogno candidarmi al congresso. Sfida un avversario con quattro mandati alle spalle. Come pensa di batterlo? Diceva? Ora che mi sono candidato ficcheranno il naso nella nostra famiglia. Qualcuno vuole confessarmi qualche piccolo segreto? Ho nominato il nome di Dio in vano. Nient'altro? Allo già mi sono fatto leccare il pisello da una capretta. È solo un mezzo matto. Ne lo mangio. Abbiamo del lavoro da sbrigare! Come va? Attenzione, la tua mongolfiera sta per scoppiare. L'hai gonfiata con le tue puzzette? Stai cercando di insultarmi? Tua mamma è come una cucina componibile. Tu paghi e poi se la montano a casa davanti a te. Hai capito chi ha le palle? Smettila! Washington, signori, oggi è un casino. Come dite è un casino in ebraico? Palacan. Donkey Kong? Vuoi una guerra santa, nanetto? Tutti insieme, cambri di rieletto! Ciao! Non potevi mordere Adamo e quella troia di ero! Mi rifiuto di perdere, hai capito? Io vincerò! Io non mi arrenderò mai! Marty Huggins, cos'hai lì? Una balestra? Uomo a terra! Signore, ci sono dei bambini da baciare. Il bambino lo bacio io e viene. Prima io! Ha dato un pugno al bambino. E nessuno mi chiede come sta la mia mano dopo aver cozzato contro la mascella d'acciaio di quel bambino.